E proprio mentre parlavamo di una triste vicenda del Cocoricò chiuso per la morte di un ragazzo di 16 anni per droga e sarà chiuso tutta quanta l'estate, giunge, forse non so se è una coincidenza, è anche vero che Rimini e la costiera atriatica di quelle zone, insomma, da quelle parti, è densa in queste ore di attività, è l'ombelico del mondo, potremmo dire. Insomma, giunge la notizia, un principe arabo viene trovato, come avete visto nella foto precedente, a bordo di un muletto, di un kart, di un golf kart, non golf car, come ha scritto il comunicato dalla polizia, credo si chiami, di un golf kart, cioè prende quelle, ecco, le vedete proprio qui, inquadrate dietro di me, sono proprio loro, nascosti ovviamente per motivi, penso, di privacy, appunto, vengono fermati sull'autostrada. Incredibile, noi abbiamo scritto qui in redazione muletto, io non sono un giocatore di golf, però frequento spesso il golf, soprattutto in questi ultimi mesi per lavoro, sono stato a bordo con la mia amica giornalista Lucilla Quaglia, che saluto spesso a bordo di questi kart, sono delle auto, non sono delle auto, sono dei muletti, ecco, sono dei piccoli kart, come vedete, che servono per spostarsi all'interno del green, del campo di golf, come potete vedere in queste immagini, sono elettrici, quindi vanno a, io credo, massimo 30 all'ora, non di più, 30, forse alcuni, raramente, potrebbero raggiungere i 40, ma immaginate un qualcosa del genere, così, senza poi anche, insomma, molto, diciamo, su un'autostrada e nei giorni dell'esodo estivo, cioè oggi, per esempio, sabato 8 agosto, cioè qualcosa di assurdo. Ovviamente a bordo non c'era una persona qualsiasi, ma c'era un principe dell'Emirato Arabo, che, vedete, è stato fermato e si è giustificato dicendo che si era, insomma, leggiamo il comunicato insieme della polizia, se attendete qualche istante, la polizia stradale di Rimini durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito autostradale ha intercettato un veicolo alquanto atipico, direi, ovvero una golf car, no, non è una golf car, cioè una macchina golf, ma una golf cart, cioè un cart da golf per i campi da golf, comunque un mini veicolo che si usa per gli spostamenti all'interno dei campi di golf, ovviamente, va bene, che c'è una, sì, una macchina per i campi da golf, una golf car, si può anche dire, però credo che il termine tecnico sia golf cart, infatti abbiamo sbagliato anche noi, forse neanche muletto si dice, che circolava sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra il casello di Rimini sud ed il casello di Riccione, in direzione sud, nell'abitacolo i polizioti hanno identificato un principe degli Emirati Arabi, accompagnato da personale di servizio, come vedete, che si è giustificato dichiarando che dopo aver raggiunto la città di Rimini, non sapendo come far ritorno in un albergo della riviera triatica, ha attivato il navigatore del telefono, ahimè, quindi la colpa è dei navigatori. Allora, la colpa è dei navigatori, poi vediamo, è una battuta ovviamente, ma... ...è imboccato l'autostrada al casello di Rimini sud e dopo aver prelevato il biglietto autostradale, pensate, si è immesso in autostrada in direzione sud per raggiungere l'albergo. Il veicolo è stato recuperato dal soccorso stradale, mentre il conducente è stato sanzionato amministrativamente bla bla eccetera, cioè non si può circolare ovviamente con questi veicoli che tra l'altro sono veicoli elettrici e che vanno molto piano, quindi molto pericolosi anche per la loro sicurezza. Ma andiamo appunto a parlare di questi... Allora, vabbè, posso capire, capisco che comunque, insomma, io mi auguro che non ci siano problemi tecnici, vediamo un attimo... Sì, ci sono dei problemi tecnici invece perché la mia immagine è bloccata, vediamo se riusciamo a farla ripartire velocemente, comunque io andiamo un attimo con l'audio, ecco, tra poco ritorniamo in diretta anche con l'immagine per donare questo piccolo problema tecnico, appunto, dicevamo, eccoci qui in movimento. Dunque, da un lato si comprende il fatto che i navigatori a volte sballano, anzi spesso devo dire, e faccio riferimento, io uso, utilizzo il navigatore Android a volte, insomma, fa fare delle strade un po' particolari, ecco, ultimamente sono stato in mezzo a un campo, sono andato a finire, insomma, però questo si sa, ecco, però tutto sommato un servizio di navigatori Android gratuito che funziona bene e che comunque va ogni tanto, no, controllato, ovviamente una cosa è andare a piedi, una cosa è andare con la bicicletta, una cosa è andare con un kart da golf, che io credo non possa neanche uscire dai campi da golf, credo, così, a occhio, è un motore elettrico, forse può andare, ecco, soltanto su alcune situazioni, figuriamoci andare sull'autostrada, però, insomma, io posso capire andare a finire, non so, con la macchina in un campo, in una strada sterrata, succede spesso con i navigatori, ma andare con un kart dentro un'autostrada ce ne vuole, perché vuol dire trovarsi, vabbè, di fronte un'autostrada, già lì in Italia si deve capire che dentro l'autostrada non ci si va, ma questi forse neanche sulla strada possono andare questi kart, e poi, insomma, si ritira il biglietto, si entra dentro, insomma, qualcosa di assurdo, forse erano tutti e tre arabi, me lo auguro, perché se fossero italiani, insomma, c'è da preoccuparsi, è anche vero che a volte gli Emirati Arabi o questi personaggi talmente ricchi, come anche Bill Gates, ricordo Bill Gates che con l'elicottero era atterrato su Stromboli, senza autorizzazione, mi sembra, anni fa, insomma, a volte no, c'è un delirio quasi di onnipotenza, un delirio di poter fare qualsiasi cosa, ma non divaghiamo, la notizia è questa, perdonate la mia opinione personale, così da amici non è stata, meno male che tutto è finito bene, quel che è finito bene questa volta, poteva comunque essere rischioso, soprattutto per il principe e per i conducenti, insomma, per le tre persone a bordo, vedete qui, nascoste, però, insomma, tutto è finito bene, la multarella praticamente è ridicola in confronto all'impero economico e sarà anche felice, insomma, di poterlo raccontare, no, questa avventura, però, insomma, ha messo a rischio, ecco, la sua vita, la sua incolumità e anche quella degli altri sull'autostrada. Attenzione principi, non andate con i carto da golf sulle autostrade italiane. Ciao a tutti.